Ciao a tutti, mi chiamo Andrea Barbera, ho 25 anni e partecipo al progetto Name Climate Change. È la prima volta nella vita che prendo parte a un progetto simile e finalmente non vedevo l'ora di riuscire a fare qualcosa. Il fattore scatenante per me è stata la nascita del mio nipotino che ha fatto sì che mi tornasse la voglia di cambiare le cose e rendere un mondo migliore per le generazioni future e non lasciare un mondo disabitato e con tantissimi problemi. Name Climate Change si propone di sensibilizzare e informare i più giovani, anche non, riguardo i cambiamenti ambientali e le conseguenze che possono avere su alcune parti del mondo. Il progetto è molto interessante a mio parere perché non solo riguarda la creazione di una mostra itinerante per la sensibilizzazione con attività fatte da noi personalmente, ma è molto utile anche perché ci ha permesso di lavorare in gruppo e creare insieme questo progetto qui, quindi essere proprio attivi nel sistema. È stato poi bellissimo comunque confrontarsi con attivisti e migranti attraverso interviste e foto per riuscire proprio noi a creare il contenuto che vada poi a sensibilizzare le persone. Tutto questo è stato reso utile soprattutto grazie a Max Ferrero che con la sua esperienza e capacità ci sta aiutando veramente sia a capire il lato pratico della cosa che comunque poi appunto a utilizzarlo per far qualcosa di utile.